Si chiama Ratta Hamilton, è una donna che vive in Canada e pensate che stava dormendo quando un meteorete di quasi 2 kg di peso è letteralmente precipitato nella sua abitazione in Colombia, ci troviamo in Canada se non vado errato. Il masso che ha le dimensioni di un grosso San Piedrino si è, diciamo così, andato a cadere proprio nel letto di questa donna e la pensionata è rimasta abbastanza scioccata perché non si aspettava minimamente che questo meteorete andasse a cadere e poi tra l'altro proprio nella sua abitazione. Una vicenda questa che è dell'incredibile, la notizia è stata diffusa anche nel web e un ricercatore tale Peter Brown ha confermato che si tratta effettivamente parlando di un medio video. Il video termina qua, un saluto caro italiano, un narrato italiano, al prossimo video, grazie a tutti e una buona serata a voi.